Ciao a tutti ragazzi, sono Andriu Rozza e bentornati sul canale. Oggi ragazzi torniamo con una super topo recensione e andiamoci a vedere quello che è il topolino 3487, scusate. Vi ricordo che settimana scorsa è uscita la recensione con il finale degli episodi appunto del Minacciarello Spazio Oggi partiamo con la tematica degli scacchi, come potete vedere anche dalla super copertina di Frecciero. Per cui ragazzi vi ricordo che se non siete iscritti al canale è giunto il momento di cliccare in basso a destra e iscrivervi perché ci sono tanti di voi che guardano i miei video senza essere iscritti. È un favore che vi chiedo, a voi non costa nulla, a me aiuta molto. Detto questo ragazzi andiamo con la sigla e poi ci vediamo il super topolino. Ed eccoci ragazzi con il super topolino. Andiamoci a vedere subito questa super copertina disegnata da Frecciero. Dove vedete la tematica prevalente è quella degli scacchi. Quindi l'apprezzo molto e anche perché andremo proprio a vedere quella che sarà la storia dedicata appunto alla nuova dopo Minacciarello Spazio abbiamo per l'appunto queste nuove storie qua, scacco matto a topolino. Come vedete ragazzi è cambiata l'impostazione grafica, non c'è più, c'è un nuovo formato appunto un po' più classico diciamo con i titoli, vedete scacco matto a topolino, canzone per Dozen e ovviamente sopra in piccolo la tipologia della serie Misteri Paperopoli, People Spot, Time Machine Misadventure e Road to World Cup. Vediamo subito ragazzi quello che è la prima storia, bianchi o neri. Scacco matto a topolino, primo episodio di quattro, come vedete qua c'è un incontro tra Basettoni e topolino e gli viene segnato al commissario creata una mail strana di un giocatore di scacchi che sfida appunto a polizia, altrimenti ci saranno delle ritorsioni su topolini. praticamente suona, Basettoni afferma di cestinare la mail e suona un allarme XL e viene segnato appunto che c'è stata una fuga incredibile dal carcere e ovviamente c'è stato ritardo nelle comunicazioni e chiedono, Basettoni chiede chi era evaso e gli viene risposto che è un certo Laman conosciuto come lo scacchista. A questo punto Basettoni capisce che la mele arrivata in precedenza potrebbe non essere quella di un mitomane ma è appunto chiedere di indagare e si scopre che questa mele arriva da un certo scacchista tra l'altro poi ragazzi il problema è che il commissario non sa giocare a scacchi la scena si sposta in una stanza dove c'è un personaggio che sta, mister Farnesio che sta giocando a scacchi è una partita simultanea, entra Manetta che lo chiama appunto però lo scacchista lo ferma e aspetta di fare tutte le mosse e fa scacco matto completo troviamo intanto Topolino che va a confidarsi con Pippo Pippo tra l'altro decide di aiutare recuperando gli appunti di Pipparov ho chiesto uno scacchista suo antenato dove appunto gli racconta Topolino che era molto famoso appunto per determinate giocate imprevedibili e trova questo libro che appena Topolino vede è un po' perplesso perché c'è una pannocchia sulla copertina Pippo afferma di non preoccuparsi che l'apparenza inganna ci si sposta di nuovo al commissariato dove la partita di fatto è iniziata con le prime due mosse il nostro Farnesio ha il bianco tra l'altro Pippo si decide di voler consegnare a Farnesio gli appunti di Pipparov e Farnesio si accorge incredibilmente è sorpreso da vedere l'album scusate non l'album, il libro e tanto da dire un pezzo rarissimo ovviamente Pippo accede alla stanza che è off limits e Farnesio lo fa osservare chiaramente decide che parlano un pochettino su delle strategie di gioco ovviamente Farnesio decide di utilizzare il gambetto di donna quello molto famoso se avete visto la serie appunto dedicata sugli scacchi su Netflix a questo punto chiaramente c'è una discrizione tra Pippo e Farnesio su come può proseguire la partita Vasettoni e Topolino lasciano escono in strada dove vediamo che si ritrovano sentono una botta incredibile e questo li spaventa abbastanza tra l'altro vedono che c'è stata un'esplosione nelle tubature che ha fatto inondare la città e tra l'altro un negozio di elettronica è stato svaliggiato e quindi di fatto c'è una problematica importante a questo punto arriva una chiamata a Vasettoni dove si palesa questo scacchista che afferma che praticamente ogni pezzo bianco perso provocherà di fatto una conseguenza in mondo reale quindi abbiamo visto che lo scacchista ha appena accettato il gambetto di donna quindi mangiando il pedone bianco e così si conclude il primo episodio poi ragazzi ovviamente appunto entro la settimana prossima per proseguire la storia mi è piaciuta molto anche perché il tema scacchi è sempre molto interessante e ora ci spostiamo ragazzi su Roll to Work Up Direzione Canada allora ragazzi questo è un secondo episodio di una serie tra virgolette che è iniziata tempo fa col primo appunto si parla dei mondiali di Fridonia 2022 con la squadra del Calisota appunto della nostra regione di Paperopoli che dovrà affrontare delle partite per qualificarsi ai mondiali di Fridonia quindi di fatto è questa avventura nel giro dopo aver vinto la prima partita appunto nello scorso episodio col Sal Sedonia oggi i nostri devono giocare contro la squadra di Dawson appunto dello Yukon e vediamo appunto che proprio ci troviamo a Dawson che sta in Canada in questo nell'universo ovviamente Disney e stanno parlando appunto del calcio proprio perché c'è questo personaggio qui che sta presentando un un progetto proprio per creare uno stadio un centro sportivo addirittura superiore a quello delle 200 porte di Paperopoli se lo siete persi ragazzi vi faccio recuperare le storie delle 100 porte una serie molto bella sul calcio e chiaramente c'è l'intro l'intro che si abbia generato dagli sponsor e quindi il finanziamento si abbia stato fatto dagli sponsor che però chiaramente questo viene detto che che il calcio attirerà tantissime persone tantissime turisti ad ozon e ovviamente addirittura che si potranno ospitare anche i mondiali e viene chiedetto appunto a slick che è questo personaggio qua che probabilmente verrà accettato questo progetto facendo qualificare la squadra dello yukon appunto ai mondiali di fridonia ci si trova a paperopoli a paperopoli appunto c'è paperone che parla dei membri della famiglia slick per l'appunto dove viene presentata la squadra del calisota quelle che potrebbero essere problematiche dei fratelli slick che erano dei banditi che rapinavano banche e cantavano fondamentalmente al saloon una canzone per doson per l'appunto da qua il titolo chiaramente è la canzone poi c'è rietta slick che era veggente ma che di fatto utilizzava questa sua abilità per borseggiare e poi il peggiore di tutti che appunto sopi slick che abbiamo visto presentare il progetto e quindi paperone di fatto pensare di essere liberato in realtà ha scoperto che si è assunta la carica di presidente della squadra dello yukon e ha fatto allenare rietta la squadra quindi in questo momento paperone chiede al team di vincerlo di batterlo per evitare problematiche ovviamente i ragazzi vogliono vincere per andare ai mondiali i ragazzi partono con tutta la squadra e arrivano a doson dove ovviamente paperone per prima cosa porta alla vecchia doson che appunto è la base su cui slick vuole costruire il nuovo centro sportivo e ovviamente era la città dove paperone aveva vissuto ed aveva vissuto i tempi del clondike e dove peraltro aveva conosciuto il suo grande amore e paperino afferma praticamente che paperone vuole vincere se la prende molto a cuore proprio per non perdere il posto dove era cresciuto dove aveva conosciuto anche l'amore tra l'altro ci sono i fratelli doson che cantano ancora e ovviamente c'è un incontro spiacevole tra i due e paperone lancia la sfida ovviamente i nostri ragazzi si allenano e si preparano chiaramente a quello che sarà poi la sfida il giorno dopo dove addirittura c'è il giovanissimo Pennino eroe della prima partita che ha un bel dialogo con paperone ci ritroviamo il giorno dopo nella sfida finalmente e vediamo che quello che succede ovviamente c'è l'incontro tra paperone slick tra l'altro paperone è molto preoccupato su questa situazione perché chiaramente pensa che ci possa essere qualche problematica generale la partita comincia vediamo ragazzi che Calisota segna ma il gol viene annullato ingiustamente quindi paperone scopre che di fatto l'arbitro è uno dei fratelli slick e gli altri due sono due guardaline pertanto accusa ovviamente slick di aver imbrogliato la partita va avanti con rigori negati fuori gioco inesistenti e ovviamente slick intanto spiega il suo piano che il 90 verrà fischiato un rigore a favore dello yukon per vincere la partita tra l'altro paperone gli viene in mente che magari slick non ha detto ai fratelli del suo piano e quindi fa un annuncio al microfono dello stadio avvisando che per costruire lo stadio e quindi tutto il centro sportivo ha distrutto la vecchia Dawson si scopre che i fratelli slick vista la reazione non lo sapevano e a questo punto ragazzi su un'azione incredibile Calisota riesce a segnare il gol che stavolta viene convalidato tra l'altro ovviamente con la reazione incredibile di di soppi slick finisce la partita quindi omologata 1 a 0 al novantesimo quindi il tradimento appunto dei fratelli slick perché ovviamente non volevano che fosse distrutto la loro vecchia città e appunto naufraga il piano di soppi slick tra l'altro appunto vediamo che il Calisota si porta al primo posto con il West Dakota e che poi ci sarà appunto la prossima sfida che deciderà la qualificazione perché ne passa una ovviamente c'è il grande saluto di Paperone dove sente suonare alla bolla d'oro una canzone che gli ricorda appunto qua vediamo queste immagini di Paperone probabilmente magari ha visto Doretta Doremi ma noi non lo sapremo storia bella mi è piaciuta molto e devo dire che è una serie che appassiona comunque siete fan del calcio poi qua ci sono delle storielle su Eta Beta molto breve da una pagina e ci spostiamo ragazzi con quello che è il prologo di del nuovo della nuova storia per l'appunto del Paperino il museo di Duck Trip con il prologo dove c'è proprio Duck Trip che gli viene assegnata una uno scrinio con dentro qualcosa di estremo valore ovviamente ragazzi Paperino sta lavorando al museo Duck Trip come custode appunto il Duck Trip era questo micenate che aveva Ron Duck Trip scusate era micenate che aveva costruito appunto questo museo sembra tutto tranquillo quando Paperino sente un rumore e si sposta nella sala a cercare tra l'altro nelle varie sale non riesce a trovare finché non trova non sente un rumore dietro questa tenda e trova questo personaggio qui Nat Duck Trip che afferma di essere il pronipote di Ron e che lui di fatto ha trovato nella vecchia villa un documento che Ron Duck Trip ha nascosto un tesoro nel suo museo ovviamente Paperino legge l'indizio e Duck Trip afferma che quello che è stato nascosto dove c'è Attila perché dove passano che c'è più l'erba gli ricorda Attila tuttavia i nostri non riescono a trovare nulla per cui Nat spiega che si è nascosto lì perché non poteva guardare bene con il museo aperto Paperino gli chiede perché non ha chiesto un permesso Nat ovviamente ha detto che la direzione che lui vuole ritrovare il tesoro per se stesso e che quindi la direzione del museo non sarebbe d'accordo però Paperino gli suggerisce di aiutarlo e appunto Nat decide di smizzare il tesoro in caso di ritrovamento allora Paperino suggerisce di spostarsi però nella sala verde della botanica dove c'è per l'appunto Toserbe scusate Toserba ideato da Tiglio Paperus che ricorda molto il nome di Attila qua finalmente i nostri riescono a trovare un fogliettino rosa Paperino suggerisce di andare a vedere la sala rosa sul fogliettino c'è una V cominciano a cercare però non trovano niente alla fine Paperino prova anziché pensare alla V come una V ma come un 5 romano quindi spostando le lancette sul 5 si apre il pendolo e il pendolo ruota lasciando una botola sotto trovano una gemma incredibile a questo punto viene spiegato che questa gemma era stata donata da un saggio a uno dei viaggi a Duck Trip e questa gemma provoca concordia armonia e serenità però Nat la ruba colpendo Paperino lasciandolo di sotto e fugge Paperino prova a risalire per inseguirlo nel tentativo di cattorello va a sbattere contro la statua di Duck Trip che gli si spezza il bastone colpendo in testa il pronipote che perde la gemma Paperino nasconde la gemma e scopre che Nat ha preso dalla botta perso la memoria gli spiega che si è addormentato al museo ovviamente risistema tutto quanto e riporta la pietra all'interno spiegano che tanto Nat anche se che comunque non avrebbe più ritrovato l'oggetto e lasciando la pietra della concordia nel suo posto come voleva di fatto il vecchio fondatore storia che a me è piaciuta particolarmente perché adoro i musei comunque piena di azione qua ragazzi abbiamo Pip Spot il testimone era una storia comprata da un'estero Pippo e gamba di legno dove vediamo appunto che i nostri Pippo sta girando questi spot con un panino piccante alla fine si presenta gamba di legno che assaggia il panino e di fatto riesce a mangiarlo in maniera incredibile me lo mangio io ma voi non potete resistere quindi di fatto viene proposto a Pietro di fare gli spot dove avrà poi cibo gratis e prodotti gratis tutti vogliono gamba di legno come testimone allora comincia questa carriera d'attore e vediamo che però Pietro si comporta comunque in modo strano perché fa finta di firmare autografi eccetera e parte in realtà un piano per segnalare le telecamere come vedete poi di notte si presenta cercando di rubare i televisori su cui aveva fatto lo spot però viene praticamente sorpreso perché di fatto era stato beccato che non erano autografi ma semplicemente stava appuntando le posizioni delle telecamere viene girato a sua insaputa uno spot per i testimoni come testimonia per gli antifurti e quindi ovviamente poi Pietro viene poi celebrato come come un grande attore anche in carcere nonostante il prodotto non sia di gradimento per i carcerati storia simpatica non mi ha detto niente di che però vabbè ci può stare come tipologia prossima ragazzi quella molto interessante è la Time Machine Meads Adventure che sarà una nuova serie appunto dedicata al ritorno al passato dei nostri eroi con Zio Paperone e gli altri che viaggiano nel tempo ci troviamo però avanti nel tempo e qua ci troviamo nel futuro dove vediamo la terra che ha cambiato di fatto un pochettino i connotati con i personaggi che vivono probabilmente su un altro pianeta infatti vediamo probabilmente erede di Archimede e atterrare a Paperopoli cercando quella che è la macchina del tempo del suo proprio zio Archimede di fatto ritrova l'archivio questo Archimede e vede tutti i periodi storici che lui vuole osservare chiaramente trova questo diciamo contenitore con l'isola di Capitanti Buron e comincia a osservare quella che è il primo ricordo ci si sposta per l'appunto nel 540 nell'Oceano Atlantico dove vediamo Paperino e Paperone che sono catturati su una nave pirata ovviamente i nostri hanno fatto un viaggio nel tempo e vediamo che si presenta questo pirata che è il Capitanti Buron e a questo punto i nostri vengono imprigionati sulla nave costretti a lavorare come sguatteri Paperino viene mandato in Cambusa dove c'è una serie di patate e comincia un pochettino a essere obbligato a cucinarle in qualche modo anche perché di fatto gli dice che il Capitano le mangia con la buccia però Paperino dice che ha cucinato le patate in tanti modi ovviamente a quei tempi non si usavano cucinarle come adesso e Paperino lo sfida prepara le prime patate fritte della storia che vengono divorate dal Capitano e dalla sua ciurma e l'obiettivo ovviamente per i nostri eroi era di ritrovare quella che era l'isola per l'appunto dove c'erano i tesori di Tiburon che viene rivelata essendo Queva Cupa e così Paperone è soddisfatto e si preparano a rientrare quando per l'appunto ad un tratto Paperino finisce contro il timone facendo sbandare la nave andando contro una nave spagnola i nostri riescono comunque a sfuggire e tornare nel presente nel presente di fatto Archimede li accoglie Paperone afferma che la missione è compiuta ovviamente per festeggiare la missione compiuta quindi il ritrovamento dell'isola di Tiburon vogliono decidere di mangiare una pizza purtroppo però chiedendo pizza margherita col pomodoro il pizzaiolo rimane un po' sorpreso dicendo cos'è il pomodoro cosa intendete per pomodoro quindi qualcosa è andato storto tanto che ritornano ad Archimede chiedendo il pomodoro e ovviamente la risposta è no i nostri capiscono che devono aver combinato qualcosa di grave nel passato e quindi tornano indietro nel tempo tornando indietro nel tempo si ritrovano nel covo di Tiburon Tiburon scusate e vediamo che di fatto quello che trovano sono dei sacchi con i semi di pomodoro che dovevano essere consegnati in Spagna e che avrebbero portato chiaramente la conoscenza del pomodoro in Europa e poi chiaramente successivamente nel mondo e quindi l'errore tra i rivetti di Paperino che è andato a sbattere col timone ha provocato il saccheggio della nave con i semi per questo motivo intanto Paperino viene ritrovato e crea come diversivo il popcorn facendo appunto mettendo delle pannocchie di mais facendo esplodere con questo diversivo i nostri riescono a fuggire a portare in Spagna il sacco di pomodori che viene poi ovviamente venduto che viene coltivato tornati nel futuro vedono che hanno risistemato le cose tanto che i pomodori ce ne sono a bizzef e ovviamente viene affermato da Archimede che dovranno stare molto attenti quando viaggeranno nel tempo Paperone è convinto che non ci sarà una seconda volta in realtà vedendo le immagini finali con l'erede di Archimede i viaggi sono stati più e più volti quindi una serie molto interessante Dottor Quantum che è appunto l'erede di Archimede viene invitato a ritornare lui è sereno perché tanto ci tornerà un'altra volta una storia che secondo me è molto interessante mi è piaciuto questo nuovo sistema di racconto quindi un viaggio nel tempo tra i ricordi tra i ricordi che ricorda molto anche Assassin's Creed per cui non male ragazzi queste sono le storie ovviamente di questa settimana vedete qua tutto il livello è la copertina del prossimo numero dove ragazzi qua tra l'altro ci sono cose sugli scacchi abbiamo appunto anche una diversa impaginazione finale per il prossimo numero termina 488 con l'episodio 2 del viaggio sulla luna cioè scusate il primo episodio di viaggio nella luna il secondo di scacco matto e poi altre storie quelle classiche con una di zio paperone e una vita da vendere un papero qualunque per questo numero ragazzi direi che è tutto voi fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao